Incredibile polemica sulla vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, l'ex volto di Temptation Island, ovvero per Lavatiero, che praticamente finisce nel mirino del Codacons per quello che è successo dopo il trionfo nel reality show di Casa Mediaset e in particolare sulle sue sponsorizzazioni sui social. Ma cosa sarà mai accaduto alla ragazza campana, tanto amata ma anche tanto bistrattata dal popolo del web e dai telespettatori del GF? Cosa potrebbe accaderle adesso? Rischia davvero così grosso? Non ci resta che andare a scoprire insieme in cosa consistono le polemiche delle quali si trova al centro e a quali sviluppi potrebbero portare. Vediamo se ci saranno ulteriori aggiornamenti perché, al momento, non abbiamo altre informazioni a riguardo.